Spesso le sofferenze e le angosce interiori diventano talmente insopportabili da non trovare altra via d'uscita se non farla finita. Forse questa è la base della decisione estrema del 19enne Marcello Veraldi e del 42enne Ricomo Rimanno di togliersi la vita. Tutti e due lontani nel luogo fisico in cui hanno scelto di materializzare in suicidio la loro sofferenza ma accomunati dalla medesima decisione e dalla medesima notte. Ciascuno con le proprie ragioni, sì perché spesso le motivazioni che agli occhi dei più non sembrano abbastanza per decidere di farla finita sono percepite come insormontabili soggettivamente da chi decide di compiere il gesto estremo. Una fragilità insomma che chiunque può avere ma che in qualcuno può essere amplificata. Suicidio come atto estremo, come mancanza di alternative, probabilmente alcune sono state alcune tentate soluzioni andate male per risolvere un dato problema e quindi si entra in un vicolo cieco dove l'unica possibilità è intravista e percepita come la fine, quindi l'atto più estremo. Ognuno di noi è diverso fortunatamente e quindi comunque nei drammi magari i drammi vengono affrontati in modo diverso e quindi magari ci sono delle persone soprattutto magari in giovane età ma anche comunque in età adulta che quel dato problema è come se lo interpretassero in maniera insormontabile, cioè è difficilissimo superarlo, magari ci si chiude in se stessi, ci sono dei sintomi e dei tratti depressivi e soprattutto magari nella giovane età ci possono essere anche dei problemi a livello proprio comunicazionale, quindi molta chiusura in se stessi. Sì ci possono essere dei segnali che comunque, allora tutta la sintomatologia è a specifica, nel senso che comunque non c'è una sintomatologia precisa che si può collegare direttamente ad esempio con un suicidio prossimo, diciamo, un'ideazione suicidale, però comunque sì ci possono essere delle problematiche, sicuramente probabilmente un camerino d'allarme è la chiusura in se stessi, però comunque è raro veramente che una persona decida di farla finita senza comunque mostrare dei sintomi magari nei giorni precedenti, nelle ore precedenti, nei mesi precedenti, insomma è veramente strano. Ormai in questa era anche digitale dove ad esempio troviamo moltissimi adolescenti che stanno la mattina alla sera attaccati allo smartphone, appunto il cellulare oppure internet e quindi c'è una chiusura in se stessi, anche insomma quindi un distacco anche tra virgolette con la realtà e quindi anche a livello comunicazionale perché si preferisce magari una comunicazione più in diretta e quindi virtuale piuttosto che è una comunicazione più, tra virgolette, sana con appunto le figure di riferimento, quali potrebbero essere i familiari, perché molte volte troviamo molti familiari, molti genitori disperati perché non riescono proprio a stabilire un contatto sia da un punto di vista comunicativo ma anche emotivo con i propri figli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.